Abbiamo appena attraversato il mare a nuoto e siamo arrivati finalmente sulla terraferma. Questa è la famosa isola che non c'è di Sharm el Sheikh. Mi raccomando, se venite qui vi consiglio le scarpette perché ci stanno i coralli e vi fate male i piedi. Ma è una cosa spettacolare.